Ciao bestiacce! Materiali di oggi, un marker, una china e basta Partiamo dall'occhio, usiamo sta piattola come riferimento Per poi scendere sul nasino e bocchino Allora, qui l'esercizio è di concentrarsi sulle ombre e non tanto sulle forne Come un approccio in discoteca E prendete anche confidenza con la punta a scalpello dei marker Che sembra utile come un pugno nei denti, invece non so perché E tenete a mente che più ripassate fanno una gran differenza Bella scoperta Poi tiriamo fuori la china e andiamo veramente a dare anima a suo disegno Oggi la stiamo facendo un po' fuori dal vaso E possibilmente non scarabocchiate dove picchia la luce Sentite profumo di donna, vuol dire che vi sta uscendo bene Se riuscite a fare una cosa mezza decente con un pennarello è un grande allenamento Ragazza di paesello fatta con un pennarello